Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove per lavori di miglioramento della sicurezza al momento si segnalano rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno. Code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Per lavori è chiusa l'uscita di Tirregna provenendo da Firenze. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano Nord e Impluneta in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Anche per oggi è tutto, a domani, buon viaggio! Grazie a tutti!